Daitan Tree combatterà voi Meganoid e le vostre brame di conquista in nome dell'umanità! Se non temi il fulgore di questo sole ardente, combatti! E ora vincerà con la potenza del sole! Colpo mortale! Sun Attack! Ora so come batterlo! Anch'io devo usare le sue stesse armi per riuscire a vincere! Coraggio! Grazie a tutti!